massimo allora partiamo dall'inizio della storia della vostra azienda che è stata fondata se non se non ho letto male sul vostro sito nel 2017 si space logistic nasce nel 2017 perché dopo molti anni da parte mia all'interno di una multinazionale trasporto dove sono cresciuto da reparto operativo per passare al reparto commerciale per poi occuparmi dello sviluppo commerciale a livello più strategico io personalmente negli ultimi anni avevo notato una involuzione rispetto a quello che era la matrice iniziale dell'azienda è un'azienda impostata sulla baricentricità della persona e il coinvolgimento delle persone e la cura della risorsa umana quale principio fondamentale per qualunque tipo di business con la crescita in termini di struttura in termini di volumi di lavoro in termini di fatturato in termini di crescita anche come copertura di territorio a livello globale piano piano è un po venuta meno quella iniziale prerogativa indispensabile della baricentricità della persona ci siamo trovati a essere governati dei numeri inizialmente noi consideravamo la nostra forza lavoro che era data dall'organizzazione interna e l'infrastruttura esterna semirimorchi articolati magazzini e tutto quello che è necessario per svolgere l'attività del trasporto ci siamo trovati che la era completamente sbilanciata verso l'esterno cioè avevamo una struttura un'organizzazione a mio avviso non necessaria per gestire tutto quell'importante numero di mezzi e quindi cosa succedeva che noi eravamo costantemente alla ricerca e lavoravamo costantemente per far sì che la struttura fosse allineata a quella che la necessità dell'ufficio operativo e dell'ufficio commerciale sono parte integrante essendo amministratore non voglio esimere la responsabilità però lì mi sono accorto che abbiamo perso di vista realmente quello che era la nostra il nostro principio ispiratore che era quello di avere la baricentricità delle persone il coinvolgimento delle persone erano dopo qualche anno di tentativo di riconciliazione e ritornare un po alle origini ho deciso di uscire dall'azienda meno seguito alcune persone del gruppo precedente abbiamo fondato space noi siamo partiti in sette persone tre in italia e quattro in slovenia con una mission far sì che le persone che lavorano da noi siano sempre baricentiche le persone che vengono all'interno dei nostri uffici devono avere una motivazione valida per venire da noi piuttosto che andare un'altra azienda noi cerchiamo di farlo coinvolgendo costantemente le persone su quasi tutte le decisioni che l'azienda prende e facendo anche in modo che anche loro siano attori attivi e proattivi all'interno della crescita e anche di qualche fallimento o errore aziendale il benessere del del personale dei dipendenti che poi voglio dire assume anche rilevanza in un ambito anche di sostenibilità perché comunque il fatto che i dipendenti siano contenti siano felici di venire a lavorare è sempre più importante insomma anche in vista dei piani di sostenibilità e di tutto quello che poi si sta delineando all'orizzonte in termini anche di documenti da fornire di regolamentazioni concordo appieno con lei considera che noi due anni fa siamo stati premiati dal nostro primo cliente quale fornitore più innovativo abbiamo dato la sostenibilità un concetto a 360 gradi andando a toccare tutti i punti della sostenibilità per in questo momento tutti parlano di una sostenibilità ambientale si è vero questa è solamente una parte perché il problemi che l'italia in particolare ma pensiamo tutta l'europa e il mondo in generale è la difficoltà a trovare le persone inserire le persone rendere partecipi far sì che abbiano uno scopo nel venire a lavorare noi abbiamo un turnover pari a zero e non è che siamo più buoni o strappaghiamo le persone noi veramente realmente abbiamo tutti i libri aperti e questi libri aperti rendono partecipi le persone noi ci prendiamo cura delle nostre persone e le nostre persone si prendono cura insieme a noi della nostra azienda prima di un lavoratore prima di un cliente prima di amministratore delegato prima di un autista senza distinzione c'è una persona anche perché considerando poi tutte le problematiche che ci sono sia relativamente al reperimento di determinate figure professionali e quindi sicuramente è un problema che riguarda gli autisti ma anche magari problematiche a livello anche sindacale che alcune aziende anzi molte aziende hanno sicuramente avere un rapporto di tipo collaborativo con i propri dipendenti il rapporto che ci sta raccontando mette a posto molti tasselli è un circolo virtuoso un po' per tutti è proprio un circolo virtuoso che prescinde da un ambito lavorativo è un circolo virtuoso che sta alla base di ogni rapporto personale sociale e professionale di qualunque tipo di rapporto ma un rapporto pari in cui si ha la medesima conoscenza quando stai percorrendo lo stesso cammino a nostro avviso migliora di molto le tue performance quello che noi stiamo cercando di fare che è la parte forse un po più complicata nel nostro lavoro è quello di far convivere e coesistere la professionalità la conoscenza delle persone che hanno esperienza nel nostro settore con dei ragazzi più giovani che hanno l'energia che hanno la forza e anche quella sana incoscienza nel proporre determinate cose e al di là del discorso del turnover che sicuramente è un dato oggettivo che conferma insomma la bontà di questa visione avete proprio dei riscontri da parte dei vostri dipendenti ci sono stati degli episodi dove avete comunque potuto raccogliere la loro soddisfazione abbiamo ribrandizzato l'azienda l'anno scorso abbiamo cominciato un percorso di rebranding ogni tanto bisogna tinteggiare la casa non erano passati tanti anni però dal 2017 sì ma una volta erano erano pochi anni dal 17 al 23 adesso al 17 23 si passa dei mammut agli elefanti con una velocità abbastanza importante era praticamente ci siamo fatti seguire dalla age farm age farm è una scuola qui nel trevisiano che queste questa azienda ha fatto parecchi colloquio delle persone ha fatto dei test perché noi volevamo veramente sapere se le persone stavano veramente bene da noi oppure era una nostra impressione il risultato così a fronte noi siamo oltre 40 persone ovviamente le cose non vanno non possono essere tutte perfette perché non facciamo gelati però sinceramente siamo anche lì è stato veramente un motivo d'orgoglio perché le persone hanno risposto molto bene e noi conosciamo partiti che abbiamo spiegato agli istituti di credito le banche qual era il nostro modello di business non ci vedevano di buon occhio perché dicevano ma scusa tu devi capitalizzare devi investire loro dicevano che i veri investimenti sono in asset e gli hanno guardato che il vero investimento è il vero patrimonio netto aziendale sono le persone che lavorano all'interno poi è successo l'imprevedibile quando è scoppiato il covid è stata secondo noi il nostro punto di svolta non essendo sbilanciati troppo all'esterno la nostra velocità di di cambio di passo e cambio di direzione è estremamente veloce andando sempre nel settore finanziario noi eravamo affidati per un milione di euro adesso non siamo sopra i 14 milioni di euro di affidamento bancario e tutte banche primarie perché perché hanno anche loro seppur non ammettendolo hanno capito che questo modello di business ha la possibilità di attraversare gli alti e i bassi dei cicli economici che sono sempre cicli la pace logistic italia è una srl che ha tre uffici uno qui a treviso uno a torino e uno a bologna poi abbiamo aperto tre società estere una in sdovenia una in romania e una in spagna adesso apriamo a settembre un ufficio a milano space fa trasporto su gomma nazionale e internazionale e trasporto intermodale soprattutto internazionale oltre ai trasporti facciamo anche logistica noi abbiamo 20 mila metri quadri in magazzino coperto tra bologna c'è gareda e ancona e adesso stiamo vedendo toccando ferro di avviare un magazzino in provincia di verona per due nostri clienti che hanno la necessità di terziarizzare attività logistiche e anche qualche cosa in più rispetto alla semplice attività di movimentazione una delle diciamo delle vostre attività principali appunto il trasporto intermodale com'era com'è la situazione allora consideri che noi abbiamo oltre 300 unità intermodali una volta con 300 unità intermodali potevi gestire mille adesso per gestire mille ci vorrebbero 900 mille unità intermodali perché perché quando molti trasportatori e clienti si sono spostati e hanno dirottato i servizi sull'intermodalità pura o sul servizio ferroviario la rete italiana ed europea forse l'europa è messa ancora peggio dell'italia se possibile non era assolutamente preparata per ricevere un raddoppio di merce che tutti non lavorano su strada ma non c'è il modo cioè non è che abbiamo fiumi navigabili da qua fino alla russia e la strada bisogna fare che è successo noi abbiamo dovuto un po rallentare l'intermodalità perché sì che noi cerchiamo di non di generare numeri ma non essere solo concentrati sui numeri però fino a che capiamo che i numeri si sostengono perché sono si sostengono non siamo missionari neanche stupidi cerchiamo di insomma di farli rientrare allora abbiamo detto fermi un attimo per qua tra soste negli interporti tempistiche e lamentare da parte dei clienti è meglio che ci fermiamo un attimo facciamo il servizio via strada utilizziamo l'intermodale per il necessario quando il cliente ha dei problemi di peso quando è più difficile ricalibrare il flusso inverso perché il medico non ce l'ha consigliato di fare l'intermodale insomma però siamo assolutamente convinti che l'alternativa deve essere la strada in questo momento l'alternativa è l'intermodale al di là del costo facciamo fin da che sia tutto gratuito ma proprio anche in termini di servizio il mercato non è proprio soprattutto in questi ultimi anni le scorte di magazzino sono sempre più basse tu devi consegnare sempre prima quindi slittare di un giorno due giorni una consegna crea dei disagi al cliente che non è preparato è bastato vedere quello che è successo con il canale di suez adesso le navi che non riescono a passare qua hanno creato una voragine di merce che stanno cercando di produrre far arrivare da paesi più vicini perché oggettivamente sono 16 giorni in più già da un pastiglio due giorni 16 giorni stravolgono le operatività dell'azienda insomma quindi preferiamo avere un costo superiore però un garantire un servizio al cliente ma la strada diventerà l'alternativa tra decenni perché comunque non è certo una cosa che succederà domani dipenderà anche dagli investimenti che verranno fatti nelle infrastrutture è un discorso abbastanza complesso questo è quello che vi augurate che la strada prima o poi diventerà l'alternativa sì diciamo che oltre una determinata soglia di percorrenza che non più o meno corrisponde attorno ai 500 chilometri diventa vetusto e obsoleto andare via strada cioè ci vorrebbe come in paesi più evoluti una ferrovia una strada una strada viaggiante ma deve essere una strada viaggiante che che deve avere le stesse problematiche della strada perché adesso tutti dicono che le strade sono trafficate ci sono incidenti sì però non è che stai fermo 3 4 5 6 7 8 9 10 giorni perché c'è un problema in autostrada con i treni stai fermo 3 4 5 6 7 8 9 10 giorni alla fine non abbiamo perso effetti di mercato siamo cresciuti ugualmente ogni anno stiamo crescendo pur avendo spostato i volumi prima eravamo 70 30 adesso abbiamo girato i numeri 70 intermorale 30 stradale abbiamo completamente girato i numeri 30 30 70 in funzione di quello che è stato il nostro principio ispiratore che si ha fatto partire noi abbiamo quando siamo usciti dall'azienda precedente avevamo 500 trattori 3.000 rimorchi di questi 500 trattori c'erano 100 100 costantemente fermi perché mancavano gli autisti perché le manutenzione noi abbiamo riuscire ad aprire un'azienda di trasporti immatricolando 1 2 3 4 cammin il minimo numero possibile e dopodiché stringere collaborazioni con piccoli trasportatori che trainino i nostri semi rimorchi costa un po di più perché ovviamente bisogna sopravvivere in due però abbiamo la certezza di poterci concentrare su quello che è il nostro core business perché il nostro core business non è quello di avere persone che cercano autisti avere persone che meccanici cioè il nostro core business è quello di dare una soddisfazione al nostro cliente proviamo a partire e vedere come funziona con avere dei partner che assimiliamo come se fossero i nostri dipendenti cioè anticipando i soldi per le buste paga anticipando i costi d'autostale anticipando i costi di gasolio non avendo l'incombenza di dover gestire il problema relativo al personale viaggiante una rete di padroncini fondamentalmente sì una rete di padroncini con i quali mentre il rapporto che c'è tradattore di lavoro e autista è da proprietario e dipendente nel nostro caso è un rapporto tra pari e un rapporto tra colleghi qual è la differenza tra l'azienda dove lavoravo prima io però la maggior parte delle aziende di trasporti sono così è la nostra che azienda che cresce per nuove immatricolazioni è un'azienda di matrice proporzionale cresce in proporzione se sono bravi la nostra invece una matrice esponenziale perché il limite è quello delle persone che noi che noi che lavorano all'interno è la conferma noi l'abbiamo avuta nel 23 sono uscite le prime 500 aziende alla provincia di treviso sono cinque trasportatori all'interno treviso fa 550 trasportatori le prime quattro sono aziende è nata tra gli anni 40 e gli anni 70 e la quinta è space logistic nata nel 2017 ma e quindi oggi quanti sono i trasportatori che lavorano con voi i vostri trazionisti quanti sono ma diciamo che noi abbiamo in questo momento 120 trazionisti con un contratto pluriannale qui in italia all'estero c'è un'altra ventina facciamo faccio conto un 150 trattori circa di cui un'ottantina fanno novantina di camion fa nel domestico e a rimanenza fa l'internazionale un maggior numero di trasporti eseguiti in ambito nazionale con un fatturato omogeneamente distribuito su tra nazionale e internazionale va bene parliamo di tip mi vuole raccontare come iniziato il rapporto con con l'azienda con con tip appunto e insomma come si è evoluto nel tempo da quanto tempo noleggiate subito subito perché sempre per quanto riguarda il discorso di avere il minore numero di asset di proprietà tanto per avere una maggiore concentrazione di finanza da investire nel vero nostro per business che è l'organizzazione i leasing gli acquisti i mutui sono degli impegni che nei primi anni fino a che i numeri non sono estremamente alti è meglio spostare siamo partiti da fin da subito i primi di mor che li abbiamo maneggiati con la tip volevamo avere solamente la possibilità di avere il contenitore della merce da dare in servizio al nostro cliente senza dover avere l'officina per la manutenzione dopo i meccanici e gomme guardi l'odore delle gomme è stata una delle cose che mi hanno spinto a dire basta non fa più per me perché si è andato proprio in testa l'odore delle gomme hanno capito subito fino subito che la nostra idea poteva essere diversa e genuina e probabilmente nel medio lungo speriamo anche vincente e ci hanno secondato seppure eravamo ancora piccoli abbiamo ricevuto moltissima fiducia da parte loro ci hanno aiutato loro ci tengono oltre che a gestirci le manutenzioni ea tenersi uno scadenziario di tutta la documentazione ci tengono anche aggiornato il parco mezzi quando delle mor che cominciano a essere betusti ci chiamano li sostituiamo con questi li va bene si va bene infatti adesso siamo stiamo sostituendo mi sembra una trentina di semi di morchi con i semi di morchi nuovi ci dà lo spazio e il tempo per concentrarci su quello che è il nostro lavoro sicuramente che non è non è quello di l'incombenza di pensare al semi di morti diciamo siamo soddisfatti sia per quanto riguarda il servizio che per quanto riguarda il rapporto con le persone con le quali poi interfacciati in assolutamente guardi avevamo preso un lavoro per dei semi di morti boxati un periodo in cura difficile trovarli perché nel periodo dove c'era il covi dei semi di morti boxati siccome era partita in esponenzialmente l'acquisto online erano spariti la circolazione perché usavano tutti quanti vari di hl quelli che vengono a casa consegnati le merci c'erano tirati fuori mi sembra vado a memoria o nove o sette dopo quel lavoro lì è sceso di picco abbiamo chiesto guardate abbiamo questi rimini morti li sostituiamo con dei centinati in tre giorni ce li hanno sostituiti sinceramente abbiamo riscontrato un dialogo come se fossero dei nostri ogni tanto ci provano a mettersi in conto qualche qualche euro in più si ritira sui 50 euro sui 60 euro ma è bello che sia così insomma va bene massimo io sono a posto e c'è qualche errore adesso poi facciamo un bel montaggio quindi non anche anche perché se dovessi tenere tutto dovremmo fare una serie ma andiamo a canne andiamo a canne va bene mi ha fatto piacere conoscerla magari prima o poi ci incontreremo anche di persona piacere mio un abbraccio forte e un buon lavoro grazie anche a lei a presto arrivederci